Il nostro concettativo di scoletro è un'importante di Giuseppe di Grigoglio, una mostra che parte da l'informale di Giuseppe di Grigoglio e rappresenta la metamotica, sicuramente, della nazione che ha fatto questa interazione dell'artista del mondo con varie tecniche, ci sono artisti e questo è un messaggio forte da Balanciaro perché stello si ha delle strutture architettoniche permanenti anche le diverse sale del parso comunale, diceva la mostra del biogreco, ma anche gli altri storici, Stavoli a Pento, la biblioteca una serie di centri culturali importanti per specie che hanno salito sui del biogreco e abbiamo destinato questa situazione del parso comunale, questo secondo piano, il terzo piano, ma mostre, gli altri, le borane, comunque culturali diciamo spazi culturali, questo è proprio uno spazio che potremmo designare, perché l'arte contemporanea è importante insieme all'altra parte del parso